Ciao ragazzi sono Marzo e sono qui tornato con voi ancora una volta con il Fortnite più 18 Vi voglio chiedere scusa ragazzi perché ho tardato un po' con l'arrivo di questo video Ve l'avevo promesso ad un tot di likes che sono stati raggiunti così, così, subito, veloce, tre giorni dopo Però ragazzi era agosto, cioè non potevo caricarlo ad agosto Ho avuto anche altri video da fare che non mi permettevano di caricare questo Però vi ho promesso che sarebbe arrivato il secondo episodio in questa stagione E io le promesse le mantengo sempre Adesso vediamo se ne potete mantenere una voi ragazzi Vi chiedo 35.000 mi piace per il prossimo episodio la prima settimana di ottobre Della nuova season si intende ovviamente Fatemi sapere nei commenti ragazzi come vi sembra Secondo voi se episodio dopo episodio sta migliorando la cosa come gioco, robe varie oppure no Vi ricordo sempre di non scassare i coglioni perché bestemme, robe varie Sì, c'è scritto nel titolo, c'è scritto 18 apposta Se siete sedicenni e ve lo volete guardare non c'è problema ma sappiate che cosa state guardando Questo è importante Mi incazzo esageratamente, ovviamente sì perché sono io così È sbagliato va bene ma sti cazzi In ogni caso ragazzi spero che vi piaccia Vi ricordo 35.000 like per un nuovo episodio e vi lascio al video Ok Ok Si va a tilted Perché si va a tilted Vediamo come questa volta vogliono farmi girare i coglioni Come cazzo ha fatto a scendere di questa maniera questa? Vabbè non vado là Easy No C'è or medica, è tutto a posto Ok Ok Uno start pulito Reserva una mitraglietta però Allora tengo a precisare prima che accadrà perché accadrà Questo pompa che ho io quando lo trovo contro mi toglie 2024 Teniamo a mente Vediamo un po' se le cose devono funzionare solo con gli altri Viva la Cihad No è ninja È ninja È ninja Mori ricchione Vabbè ma sto un fenomeno oggi eh Oggi sono un fenomeno rarissimo Tu sei pazzo Easy 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 Easiest game ever Porco dio Con tre kill So finocchio di merda Mo mo muori Devi morire Devi morire Se non muori impazzisco Guarda che pippone Guarda che pippone Guarda che pippone È un pippone di merda È un pippone di merda Cioè guarda chi mi ammazza Ma c'è Mamma mia Niente Niente Ma rotto il cam Mi sta a far perdere tempo Vaffanculo Magari mori Questo è quello che Intendevamo noi Quando dice il sabato sera Vado a ballare Ok 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 Bravo Vado a ballare Vabbè, porco Dio della Madonna Troia Coglione di merda Sai che c'è io questo coso, ma lo tengo poco Poteva mai essere headshot? Assolutamente no Sto coglione, guarda Ragazzi, questo era un uomo erectus Questo era palesemente un uomo erectus Oh Oh Questo doveva essere morto, eh Questo doveva essere morto Porco Dio, porco Maiala la Madonna Sto stronzo di merda mi ammazzato Get cancer Rudy Ace, Rudy Ace, streamer Lui è uno streamer Monna ma vede, monna ma vede come lo fa lo streamer Talmente fa cacare questo che neanche me lo trova Neanche me lo trova il canale di questo scempio umano Schifoso figlio di puttana Qua no ci sarà il panico Il panico di gente, il panico Mi sono rotto il cazzo Trajardano tutti su questo cazzo di gioco Sti bambini di merda Devo entrare nel TSM Team solo mignotte Nel TSM Come tua madre Quella puttana Presente? Hai idea? Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo Allo skirmish devi andare Allo skirmish Mi fa male l'anima La speranza mi fa male La voglia di vivere Perché lui trova il pompa E io mannaggia la madonna Quell'arma di merda È fatto con il culo È fatto questo gioco Con il culo Lo voglio vedere in faccia Andiamo a vedere Andiamo a vedere Io voglio vedere in faccia Chi cazzo l'ha fatto Questo con questa cazzo di faccia di merda Questo chi è? Quello che l'ha sviluppato L'ha presa lui L'ha presa lui Come cazzo l'ha presa lui? Come l'ha presa? Non me ne frega un cazzo Che mi ha ammazzato Florian Il suo finito di puttana Maschè è morto quello stronzo Perché a me non entra un colpo? 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Questo non sa neanche Che abbiamo vinto i mondiali Questo figlio di puttana È alto quanto il cazzo mio da moscio è Non si può entrare Non si può entrare C'è uno scalino C'è uno scalino Poi si saltano all'aria Da 400 metri Non si fanno niente Ma lo scalino Lo scalino no Lo scalino non lo sali Che cazzo è? Ma che cazzo è? Che minchia so Tutte e due C'è secondo voi questa cosa è normale C'è secondo voi io sparo prima Lui ha trovato l'arma meglio della mia Perché io sono la persona più sfigata Della faccia della terra Mannaggia la madonna Zoccola Ed è normale Ed è normale È normale È normale Ok Se questo è normale Allora io neanche parlo Poi ci sono tutti questi cazzo di streamer 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 Madonna ma come cazzo giocano Sui mobili Che cazzo è? L'IKEA Dio porco Col cancro Che cazzo è? Coglione Ed è una I believed we're on We're taking that slate It doesn't matter what I say You know you're just another one of my mistakes You are so beautiful Oh oh Perchè Dio Come ha fatto? Mi ha shottato Io lo prendo con il cecchino, non gli ho fatto una sega Lui mi ha shottato con la R Sa scimmia di merda del 2004 Zano a giramenti Come si rotta il mouse, su Non mi va più la rotella a destra, regà Regà, non mi va più la rotella a destra È una tragedia Oh porco Dio Guarda quanto materiale devo sprecare per andarla sopra Come non c'è l'acqua e sul materiale impazzisco No ragazzi ma è una tragedia questa cosa No lo devo fare fortissimo, si è rotto Mi devo comprare il mouse nuovo Non ci posso credere, non ci posso credere Manco l'ho sbattuto eh, non ho fatto niente Sta a dar falò Bel gioco di merda Fini di material, fini di materiale Scimmia Moro un botto eh, moro un botto Ma basta che è morto pure lui C'ho una, beh una Ma fammi trovare lo stack da 40 God's plan God's plan Ti prego Però dove cazzo è la prossima guarda? Se stanno pure a fightà Stanno anche fightando Come faccio? Ne devo scappare Mazza che culo C'ho 100, 200 di materiale C'ho Dovrei farmare Oh che cazzo è? Sta là dentro Allora se questo c'ha Il cecchino quello che mi vede con il mirino Io sono morto Se questo c'ha più di 100 Di 200 materiali che ho io Sono morto Oh Poteva essere preso Easy Coglione Ciucciami le palle Col maustrotto No E ballo pure Come quella Pocola di tua madre Detto ciò ragazzi Mi devo ricomprare il mouse Per forze maggiori L'episodio finisce qua Vi ricordo ragazzi Che a 35.000 like Ci sarà il prossimo episodio Che rischierà di farmi chiudere l'account Di YouTube inteso E arriverà La prima settimana Di ottobre Spero che questo video vi sia piaciuto Non state a creare polemiche Roba e varie Ma questa cosa Ve l'ho già detto nell'intro Da Marz è tutto Un bacio Ciao